Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, chi meglio di loro può augurarsi e augurare buon San Valentino, una coppia che dopo 36 anni di matrimonio è ancora affiatata come fossero ragazzi, sempre rispettosi l'uno verso l'altra, sempre scherzosi, l'allegria non deve mai mancare in un rapporto d'amore. La loro gioia più grande, Maria, che Carmen ha avuto a 53 anni e ha reso meravigliosa, la loro vita insieme. E allora ascoltiamo cosa dicono per questo San Valentino. Ecco, auguri a tutti gli innamorati, tutti, tutti, perché siamo tutti innamorati. E poi l'amore risolve tutto, l'amore salva il mondo. Come diceva padre Pino Puglisi. E' vero, l'amore salva il mondo. E quindi tanti tanti cari auguri. Ma senti Enzo, ma mi hai preparato una bella torta a forma di cuore per festeggiare questo giorno? Ma certamente che ti ho preparato una torta amore. Però devi sapere una cosa che quando uno è più giovane, noi siamo giovani ma non giovanissimi, fai la torta a forma di cuore. Ma dopo, quando ti sposi come noi, che abbiamo un bel matrimonio e tutto, devi fare la torta a forma di fegato, perché mi hai fatto venire il fegato grande. Ma fai grossare il fegato a me. Ma bravo, me lo sai cosa te la faccio adesso? T'appiccio un fegato. Ma appiccio un fegato. Con le candeline. Ma sei sempre il solito.